Dopo un momento così intimo, è pieno di passione, abbiamo parlato di amore, io appunto approfitterei per presentare un grandissimo maestro, il maestro dei maestri, un grandissimo musicista che è stato protagonista del nostro... Ma Mara che stai facendo? Vabbè, io proseguo. È stato protagonista dei nostri album, ha suonato per noi, spesso viene con noi all'estero perché dovete sapere che noi giriamo tutto il mondo, cerchiamo di portare Mara, io starei parlando, mi stai disturbando? Stai disturbando, vero? Ma fatevi sentire un po', io non vi vedo ma... Sta disturbando? Nooo, bravi! Vabbè, secondo me si sta un po' arruffianando la persona che sto per presentarvi, il grande maestro Riccardo Ascani! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.